buongiorno ragazzi buon martedì allora ormai le mattine iniziano tutto allo stesso modo in tutto con dei ringraziamenti perché anche oggi mi tocca ringraziare per altri pacchetti amazon ricevuti e altri da ritirare che dovrò ritirare nel pomeriggio partiamo subito con patrick che mi regala dei connettori rj45 utilissimi per cablare tutto l'ufficio che fanno il paio con i giunti che mi erano arrivati ieri non sono i classici connettori sono dei connettori da crimpare ma sono a prova di idiota perché si può infilare i cavi fino in fondo e poi tagliarli successivamente quindi è molto molto più facile e come lui dice non ho capito un cavolo di come si dovrebbe usare però garantisco che è molto molto facile sono molto facili da usare più facili dei connettori normali e vi farò vedere come si usano quando sarà il momento e poi bobo reddu che invece mi regala una gomma per pulire una gomma per pulire gli abrasivi o come dice anna polenta precotta lei così la vede come polenta precotta comunque questa la volevo comprare da un sacco di tempo perché allunga di brutto la vita dei dei nasti abrasivi ed è sempre utile quindi grazie ma veniamo alla brutta notizia allora o buone a seconda di come vedete voi lo show allora ho sentito la milper questa mattina per sapere a che punto fosse l'ordine hanno avuto dei problemi con i dadi che erano uno degli elementi che avevo ordinato e non hanno neanche ancora spedito prospettano la spedizione forse giovedì questo vuol dire che sicuramente prima le settimane prossima non arriva il telaio per la parte centrale della scrivania senza quel telaio è veramente difficile per me a configurare come fare tutto il passaggio cavi perché tutto dipende un po dal telaio di conseguenza mettere sui pannelli di conseguenza a mettere sulle librerie quindi quel lavoro rallenta sto loro rallenta di brutto anche perché oltre ad aver bisogno del telaio devo recuperare ancora tutto il materiale elettrico che non sono andato a prendere stamattina per la questione di incastri perché alle cinque un appuntamento sono già in zona bri come quindi tanto vale andarci dopo e quindi sono fermo quindi nei prossimi giorni farò un po di lavoretti fregnaccia andrò avanti il più possibile come posso con l'ufficio ma il grosso avverrà praticamente settimana prossima ma siccome devo occupare questa settimana perché come lavoro di programmazione me la posso cavare in notturna ma di giorno mi piace stare in laboratorio accetto la proposta di uno di voi di fare un'altra lista paritetica quella delle macro interventi del laboratorio sull'altra colonna per tutti i lavoretti i lavoretti fregnaccia che sono quelli che derivano dai vostri regali su amazon quindi le bacheche la sound machine gigante insomma faccio l'elenco e poi vediamo se oggi si riesce a mettere assieme qualcosa di questo genere ok sicuramente ho dimenticato qualcosa per adesso ho segnati 3 4 se vogliamo sotto elenco ma se non mi ricordo qualcosa che ho detto in questi giorni aiutatemi voi partiamo dal fondo devo fare la big sound machine che è la versione giganti quella macchinetta che mi avete regalato che ho intenzione di usare per le risposte rapide quindi anziché dare certe risposte premo adesso devo capire quella lì non mi perprime tanto la forma quanto mi perprime come sintetizzare nuovi suoni e farli corrispondere dei pulsanti cosa ci va dietro presumo un arduino con un mini amplificatore e una cassa presumo però devo ancora studiarci bene poi le due bacheche grazie al follower grazie al cazzo che sono le due bacheche che farò quella del grazie al follower non non mi perprime granché perché è una bacheca ci attacco sui bigliettini che trovo dentro i pacchetti amazon che mi mandate l'altra invece mi perprime come aggiungere alla bacheca le risposte quelle più quelle che meritano di entrare in bacheca perché dovrei stampare tagliarle attaccarle non lo so non ho capito poi mancherebbe il contesto e poi la cosa più importante di tutti che devo fare che probabilmente quello di cui ci operiamo stamattina che è il fika fine improvvisa ciclo aspirazione che altro non è che l'allarme del bigliettini adesso stamattina tento di fare questo dovrei avere tutti i pezzi tra quelli che ho già io e quelli che mi avete mandato voi dovrei avere tutto per mettere assieme il fika la cosa più difficile sarà testarlo perché ho appena pulito l'aspiratore l'ho appena svuotato quindi non ho idea qualcosmai speriamo un po di roba a caso o riaspiriamo la sua stessa segatura fin quando non si ottura per testarlo quindi dunque ci vogliono le due sirene che mi avete regalato che non ho ancora sentito che suono fanno e quanto forte lo fanno e sarà la prima cosa che testiamo il circuito col fotosensore penso si chiami così e poi adesso ravano un po e vedo di trovare un alimentatore e qualche altro pezzo per come metterla assieme l'idea è sostanzialmente primo sfondare le campane secondo attaccare qualcosa qua collegato all'alimentazione qua di fianco che vada a coprire il segnale luminoso una scatoletta qualcosa devo vedere quello che ho così che all'interno della scatoletta sia buio quando questo si illumina illumina l'interno della scatoletta il fotosensore scatta e fa partire l'allarme in teoria è questo adesso ravano un po tra tutti i pezzi che ho scatolette vecchie alimentatori perché mi serve anche un alimentatore e poi so già che mi servirà una mano per i collegamenti perché non ci capisco niente dai do una scavata qui in mezzo ho già trovato tutto l'occorrente riprova che faccio bene a tenere tutto il porcaio di roba che ritengo tipo una scatola raschia di alimentatori che non serve a niente collegamenti di ogni tipo praticamente ho trovato questo vecchio alimentatore lessi di un hard disk che va benissimo per alimentare il circuito e le due adesso poi vediamo se dobbiamo usarne due di sirene perché non so neanche quanto rumore facciano qui farò il foro e la scatoletta sarà appesa sopra là giustamente qualcuno mi chiede cosa cavolo sto facendo io do sempre per scontato che si sappia di cosa parlo perché vabbè molti di voi mi seguono da tanto e quindi rispondono a tono quando io faccio le stories per chi invece ancora non avesse capito perché mi segue da meno il succo è questo l'aspiratore ha un filtro che va pulito ogni tanto quando è pieno e un segnalatore luminoso che mi indica quando è ora di pulire il filtro o ogni tot ore di utilizzo una cosa che io dimentico sempre di fare morale della favola succede che si imbraga le segature e dopo un po' non aspira più niente l'idea era quella di fare un allarme sonoro e non visivo perché quel puntino luminoso l'arco non lo vedo mai collegato all'aspiratore senza però andare a modificare in alcun modo l'impianto quindi senza toccare il circuito dell'aspiratore senza aprire la scatoletta dell'aspiratore quindi non invalidare la garanzia quindi mi è stato consigliato e mi avete di conseguenza poi regalato questo circuito che ha un fotosensore che reagisce alla luce con tanto di regolazione e poi si può collegare qualcosa che stia circuito sempre aperto sempre chiuso e quindi queste due sirene ora questo qua è il piano praticamente fare una scatoletta da attaccare la sopra alimentare senza andare a modificare di quello che riguarda l'aspiratore ora la prima cosa che devo fare è quanto potente sono queste sirene una, due quindi le collegano all'alimentatore, le collegano all'alimentatore alla corrente ok l'allarme è veramente veramente prepotente la sirena è veramente veramente prepotente ne userò una sola ve la faccio sentire cinque secondi anche perché scatena un doppio effetto allarme sirena più cani e di conseguenza i cani per cui una e non due qualcuno ha già posto una questione poco ficcante cioè nel senso non c'è il rischio che con l'allarme ti spaventi e sei a rischio infortuni usiamo la testa allora accendi il macchinario non parti subito a tagliare c'è un delay time che si accende l'aspiratore dopo inizia a tagliare quando si accende l'aspiratore parte la sirena se è pieno quindi non è che ti tagli le mani appena parte la sirena ti spaventi anche perché stesso discorso vale per un citofono per i cani che abbaiono Anna che entra cioè qualsiasi cosa ti può far spaventare mentre stai lavorando e l'allarme è l'ultima di queste cose perché non avviene all'improvviso tu sei giù accendi la macchina e l'aspiratore parte in ritardo aspiratore ora è partita l'aspiratore e ovviamente continua anche dopo lo spegnimento della macchina quindi no non c'è riccio spavento ora devo capire come attaccare al circuito più che altro se sempre aperto sempre chiuso e se l'alimentatore basta anche per la sirena perché di queste robe non so nulla ok ragazzi ho un problema allora riesco ad alimentare il circuito correttamente vedete che c'è questo led acceso appena vado a coprire ovviamente il sensore si accende e quindi in teoria dovrebbe scattare il relay relay che però io non sento scattare e collegando al relay la sirena o un led per fare la prova non si accende mai indipendentemente da come lo collego e queste sono le specifiche e queste sono le specifiche dell'alimentatore ora io non ho la più palida idea se c'è un problema di alimentatore troppo poco potente che ce la fa alimentare il circuito ma non la sirena dopo se il releno scatta è rotto non lo so chi mi aiuta? allora mi avete mandato 400 messaggi io vi ringrazio ma tutte le volte che vi chiedo aiuto è un delirio e so già che riceverò messaggi per tutta la giornata su questo argomento perché chi vede le storie in ritardo non guarda l'orario e poi mi manda il messaggio The Common Man Fabio Mario Francesco non vi taglio tutti ma vi ringrazio tantissimo se ho dimenticato qualcuno perdonatemi ma era cioè veramente dovete immaginare una serie di notifiche infinita sul telefono ma il ragazzamento più grande va a Thomas che mi ha fatto capire che gli ore principali erano due primo il relay non aveva un contatto pulito penso si dica quindi dovevo portargli l'alimentazione e due che l'alimentatore che stavo usando poteva funzionare sia a 12 che a 5 a seconda dei pin della spina davanti io però la spina non ce l'avevo più quindi sicuramente stava andando a 5 cambiato l'alimentatore fatti i collegamenti sotto dettatura praticamente tutto ora funziona in pratica questo lavoro non l'ho fatto io l'avete fatto voi e Thomas e io adesso mi limiterò ad assemblare la scatola perché come vi ho detto di elettronica non capisco niente e mi metto in testa di fare la sound machine gigante cioè lì voglio proprio vedere come ce la caviamo quindi vi faccio vedere come funziona tenete conto che l'ho collegato al contrario perché al momento non è al buio è in piena luce quindi quando il sensore rileva il buio scatta dopo dovrò girarlo quindi è tutto collegato ho messo la sirena lì dentro perché i cani stanno impazzendo quindi è tutto collegato adesso che ho cambiato l'alimentatore si sente il relay scattare e quando copro ecco mi fermo qua prima che lo sentano i cani quindi vi ringrazio veramente tantissimo a tutti ragazzi io di lavori di elettronica così vorrei farne un casino più che altro perché ho un sacco di idee che contengono anche elettronica ma come vedete cioè non ci capisco niente a dir poco manco sto usando il multimetro se si chiama così quindi tutte le volte che mi date una mano mi fate degli schemi che dei disegni che a me sembrano dei giro grifici azzechi e non capisco un cazzo lui invece ha fatto le fotine con le lignette ed è stato più facile per me per cui cioè se volete facciamo tutti i progetti di elettronica li facciamo in live così almeno io non ricevo 4000 messaggi e vediamo direttamente in diretta cosa devo fare però questo intanto è fatto intanto nell'elenco delle fregnacce qualcuno mi ha che manca il pezzo più importante cioè il locker devo fare il locker per tutte le consegne amazon così almeno non vado a ritirare il giorno dopo ora sembro quella fare lì e mi devo muovere perché ho un appuntamento tra un oreo ma vorrei finire questo anche per il locker ci sarà dell'elettronica per il locker per la saw machine e ho visto che voi siete in tanti che ne sapete tanta di elettronica quindi o veniamo qua e facciamo tipo mi fate tipo un corso con collettivo al contrario tanti insegnano uno impara oppure sono progetti da merda e sangue questi quindi prima cosa per tutto devo lisciare un po' il fondo della scatola in modo che possa stare attaccato e poi fare il foro per far entrare qua la lucina che c'è che c'è Ok, ce l'abbiamo Abbiamo la fine Va bene, la rivito questa battuta Allora, tutto è assemblato Ora il foro è dall'altra parte Quindi è al buio Se io faccio entrare luce Quindi funziona esattamente come deve Esattamente come avevo immaginato Da solo non ci sarei mai riuscito Avevo pensato di fare dei micro fori qua Per far sentire meglio la sirena Ma vi garantisco che 120 decibel di sirena Sono abbastanza Pensare che inizialmente volevo metterne due Adesso questa la terremo per fare Qualche scherzo ad Anna Un sensore di pressione sulla tavoletta del cesso Appena si siede Vabbè Ad ogni modo un po' di domande Qualcuno mi ha chiesto Se non vale la pena mettere un interruttore in parallelo All'alimentazione Perché una volta accesa la sirena Che parte non si spegne più In realtà no Per il semplice motivo Che la spia luminosa del Bixouka Si accende quando rileva sacco pieno O filtro ostruito Che c'è da smandruppare la levetta Ma appena tolgo l'alimentazione La luce si spegne Quindi va con l'alimentazione del Bixouka Non va con il motore che gira Quindi con la rimanenza Quindi in teoria il funzionamento è questo Io accendo la macchina Aspetto i canonici 3 secondi Prima di tagliare come sempre Se accende il Bixouka Se accende la spia Parte la sirena Io spengo subito la macchina La sirena smette E io vado a svuotare il Bixouka Qualcun altro mi ha chiesto Se ho fatto la prova Se la sirena si sente Con acceso le macchine e il Bixouka Non ho fatto la prova Ma vi garantisco Che sono sicuro che si sente Cioè mi sta spaccando i timpani Da due ore Ho un mal di testa fotonico stamattina Quindi Quindi adesso non mi resta che montarlo E basta del biadesivo Perché se non ho modificato il Bixouka Certo non lo foro E poi nei prossimi giorni Scopriremo se funziona Ed ecco Si è montato Ora non intaserò appositamente Il filtro del Bixouka Per vedere se funziona L'installazione è anche abbastanza pulita C'è solamente un filo Che casomai posso far passare anche sopra E non si vede praticamente niente Quindi la prima delle fregnacce è andata Il Bixouka Il Bixouka Fino improvviso a ciclo aspirazione è andato Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato E soprattutto chi mi ha procurato i pezzi Perché i pezzi arrivano davanti Quindi possiamo benissimo toglierla dalla lista Ora Ora niente Ora vado al mio appuntamento Così poi passo da Brickman a prendere Tutto quello che mi serve Per l'impianto elettrico del laboratorio Immagino che nei prossimi giorni Con tutto quello che Per l'impianto elettrico del laboratorio Per l'impianto elettrico dell'ufficio Mi sto perdendo Così domani continuiamo un po' quella parte lì Magari io vorrei già passare i cavi Perché se riesco a passare i cavi Senza avere la struttura di alluminio Per il tavolo centrale Però il problema è che alcuni cavi Vanno dentro il tavolo centrale Poi posso mettere su già le librerie Vedremo di fare Magari come oggi tutti assieme Un bel volo di fantasia E capire Cercare di imbroccare dove servono I passaggi E vedere di non perdere neanche uno Vabbè all'occorrenza si può anche Rismontare tutto dopo Ma vediamo di no Direi che nei prossimi giorni Secondo me Taglia che ti ritaglia Suona Appena suona ve lo faccio sentire Per tutti quelli che mi hanno deriso in privato Bonariamente Sulla mia conoscenza elettronica Ragazzi è così Non Tranne Bonariamente tutti Tra una persona che mi ha detto Qui si scoprono gli altarini Non eri un programmatore Cazzo c'entra Io ti programmo lo space shuttle Per andare sulla luna Mica te lo costruisco Che cazzo discorsi sono Mi occupo di software Non hardware Vabbè Comunque L'elettronica per me è così È sempre stato un'incognita Non lo nascondo Quindi direi che Tra l'amazon locker Con notifica sul cellulare O spia luminosa Per me lì di elettronica Ci sarà poco Ci sarà più elettricità Ma soprattutto la sound machine Sull'elettronica C'ho da sudare sangue Chi invece mi ha chiesto Se ho aggiunto All'elenco Le aspirazioni a terra No Quello non è una fregnaccia Assolutamente Quello è un macro Lavoro per Per il laboratorio Rientra nell'altra lista Però lì so già Cosa devo fare È che c'è una piccola complicazione Due piccole complicazioni Uno sul funzionamento E due sulla forma Con il fisso ridagli Che non è proprio semplicissima E devo mettermi giù Però lo farò presto Quel lavoro lì Anche perché sono stupo Di scopare in giro Metto un po' a posto E poi scappo all'appuntamento Non so francamente Se ci vediamo più tardi Non ne ho la più palla di idea Ma se ci vediamo Ci vediamo Se non ci vediamo Ci vediamo domani Ciao Ciao Grazie a tutti.